pace quante volte la ripetiamo questa parola la sogniamo le nostre preghiere cristiane sono piene di questo termine pace e anche la scrittura la pace è il primo dono del cristo risorto la pace non è semplicemente l'assenza di guerra o uno stabile equilibrio tra forze avverse la pace si fonda anzitutto su una corretta concezione della persona umana sull'edificazione di un ordine mondiale secondo giustizia e carità sul rispetto della dignità umana la pace è in pericolo proprio quando questa dignità non viene rispettata quando ogni essere umano non viene riconosciuto ciò che che gli è dovuto in quanto essere umano e quando la convivenza non è orientata verso il bene comune la pace è qualcosa mai realizzato per sempre che chiede ogni giorno di essere costruita un cantiere l'arsenale qualcuno l'ha chiamato della pace nella dodicesima richiesta dei giovani di economio francesco leggiamo vorremmo raccontare ai nostri figli che il mondo in guerra è finito per sempre au revoir